La Toscana in termini di turismo è pronta a superare i livelli pre-pandemia, a dirlo, sono i dati IRPET diffusi nelle ultime ore sulla congiuntura 2023-2024. Il 2023 ha segnato in linea con tutto il resto del paese il completo recupero dei livelli di presenze turistiche precedenti alla pandemia, con un più 8,8% sul 2022, registrando anche buone notizie per il mercato del lavoro con un'espansione degli occupati e meno precarietà. Ma sono i primi cinque mesi del 2024 a lasciar prefigurare il definitivo superamento dei dati pre-pandemici, grazie ad un solido più 3,1%. A fare da traino sono i flussi internazionali sia nel 2023 che nei primi mesi del 2024. Da inizio anno protagonista principale della ripresa è la componente extra-europea, non nordamericana, con un più 25%, ma ci sono buoni segnali anche dalla stessa componente nordamericana che segna un più 7,4% e quella dal cosiddetto vecchio continente, più 10%. Le difficoltà nell'anno in corso riguardano invece i flussi interni. Il costo della vita e l'aumento dell'inflazione provocano una debolezza strutturale della domanda interna. Il calo è importante, meno 8,9% degli italiani e meno 12,8% dei toscani.